Dopo due anni cesserà domani lo stato di emergenza covid in Italia. Inizia una nuova fase di convivenza con il virus che proprio in questi giorni ha rialzato la testa. I contagi sono in aumento. Oggi in Veneto altri 7.874 nuovi positivi, 15 decessi e 24 nuovi ricoverati e si registrano molti focolai nelle RSA. Così, mentre dal primo aprile si allenteranno le restrizioni, nelle case di riposo la regione ha deciso di mantenere alto il livello d'attenzione con la quarantena per i contatti dei positivi ed il tampone ogni quattro giorni per il personale. Lo sforzo è uno sforzo straordinario. Lo facciamo, è l'unico modo per circoscrivere la diffusione del virus. Sugli ospiti il tempo è un po' più lungo perché facciamo ogni dieci giorni, però di fatto questa è la situazione. Fortunatamente all'alto numero di positività non corrisponde un alto tasso di ospedalizzazione e di morte. Quando avevamo numeri ricorderete anche inferiori nel passato contavamo i decessi. Oggi riusciamo affortunatamente solo a contare i contagi. La vaccinazione è stata per noi, credo, più di qualunque altra categoria una manna dal cielo. Uno sforzo organizzativo che viene richiesto alle strutture per proteggere le persone più fragili in questa fase alta di circolazione del virus. Per quanto riguarda le visite, salvo in caso di Focolai, dice il presidente dell'Unione Case di Riposo, si sta cercando di fare il massimo. Noi non stiamo facendo altro che cercare di proteggere questa popolazione fragile nel rispetto delle regole. Chiaro che in questo momento dove abbiamo visto che il vaccino ha una sua funzione, le visite sono sicuramente aumentate rispetto a prima, c'è un maggior spazio, adesso arriverà anche la primavera per cui speriamo che gli spazi all'esterno favoriscano anche questo aumento della possibilità delle visite.